Grazie. La macchina che va per lasciare i concorrenti in orrore Dorotea Lewis, sbaglia anche Danza. Donatello WF scende alla corda in vantaggio nei confronti di Distinto Lewis a largo Dinamite di Celle, i duecento iniziali in 13,9. Donatello WF leader con subito a destra la sagoma di Dinamite di Celle che insiste, sopravvanza l'avversario non bellissimo in meccanica al completamento del primo quarto in 29, un filo scarso. Passa Dinamite di Celle nei confronti di Donatello WF, Distinto Lewis per line esterne, Dominic RG, il completamento dei 600 passati dalla testa in 43,8. Si formano più pariglie, cerca di venire via Dardo MP, rimane però ancora in schiena un paio in errore all'imbocco della penultima piegata, non muta nulla a metà gara, gli 800 in un minuto appena abbondante. Prosegue in avanti Dinamite di Celle nei confronti di Donatello WF, quindi Distinto Lewis che si affaccia all'esterno, il chilometro in 1,14,2 da parte del leader punta in avanti Distinto Lewis a 500 metri dalla conclusione, copre interamente Donatello WF all'imbocco della piegata finale e contribuisce a far implementare il ritmo a Dinamite di Celle che ancora controlla la situazione, ai tre quarti miglio in 1,28 e mezzo, sbaglia Donatello WF così che Dinamite di Celle si ritrova con due lunghezze di mezza di margine nei confronti di Distinto Lewis all'ingresso dell'addirittura arrivo, più indietro in terza posizione di UTLG nel tratto conclusivo, Dinamite di Celle che spadroneggia a traguardo e viene a vincere chiaramente nei confronti di Distinto Lewis al terzo termina di UTLG. Successo del favorito sotto la pari Dinamite di Celle, Ferdinando Minopoli alla terza vittoria consecutiva, la quarta in sette uscite in carriera. l'allenamento ovviamente del team Minopoli colore signor Dionisio, l'abbate 1,58 appena abbondante il totale, 29,6 gli ultimi quattro, secondo Distinto Lewis al terzo a intervallo termina di UTLG. 5, 2, 9, l'ordine arrivo della prima.